Invocare Dio per mandare operai capaci di portare a tutti la buona notizia, messaggio di speranza, di consolazione, di pace e carità. Così Papa Francesco all'Angelus in Piazza San Pietro, commentando il brano evangelico di Luca, nel quale ha messo in luce la necessità di costruire ogni giorno il regno di Dio, offrendo i suoi frutti di conversione, di purificazione, di amore e di consolazione tra gli uomini. Il discepolo, evidenziato il pontefice, deve sapere che la sua missione si svolge in un clima di ostilità, pertanto dovrà essere libero dai condizionamenti umani, ma certo della potenza della croce. Questo, aggiunto, significa abbandonare ogni motivo di vanto personale, di carierismo, fama di potere e farsi umilmente strumenti della salvezza operata dal sacrificio di Gesù. La missione del cristiano è stupenda, destinata a tutti, ma richiede generosità e soprattutto occhi e cuore rivolti verso l'alto, ma dalla missione, ha ricordato il Papa, si torna sempre pieni di gioia. Quando noi facciamo questo, il cuore si riempie di gioia. E questa espressione mi fa pensare a quanto la Chiesa gioisse, si rallegra quando i Suoi figli ricevano la buona notizia, grazie alla dedizione di tanti uomini e donne che quotidianamente annunziano il Vangelo. Sacerdoti, quei bravi parrochi che tutti conosciamo, suore consacrate, missionari e missionari, e mi domando, sentite la domanda, quanti di voi, giovani, che adesso siete presenti oggi nella piazza, sente la chiamata del Signore a seguirlo? Non abbiate paura, siate coraggiosi e portate agli altri questa fiaccola dello zelo apostolico che ci è stata data da questi esemplari di seppoli.